L'Istituto Autonomo Case Popolari decide di fare un insediamento e sceglie l'area, un'area molto decentrata, 51-61. Qui non c'è assolutamente niente, queste qui sono aree agricole e si decide di insediarsi qua, in questo punto. E, date le caratteristiche dell'insediamento, i progettisti pensano di chiudere l'insediamento in una cittadella. La matrice di questo insediamento sono questi edifici che partono dalla periferia, dall'anello di questa cittadina e vanno verso il centro e ritornano. Una specie di stella radiale, questa è la caratteristica che danno i progettisti a questo insediamento. Come disegno può anche andare bene, non è il problema, il problema non è quello. Il problema è che questi edifici sono alti 6-7 piani, quindi con una densità altissima e degli spazi interclusi che sono molto stretti, molto angosciosi, non penetra facilmente il sole qui, anche se l'idea era quella, proprio mettendoli così, che il sole girando sarebbe passato sempre dentro. E quindi, niente, lì si crea una situazione per cui viene considerato questo tipo di insediamento negativo. A questo si aggiunge il fatto che qui sono stati concentrati dei ceti sociali poco appienti e si crea una situazione sociale che pian piano diventa esplosiva. Loro dovevano dare il massimo di risposta in termini di economia dell'insediamento e quindi ovviamente più erano alti gli edifici, più la densità rispondeva a questa esigenza del costo relativo. E quindi c'era il costo di base del terreno, che è un costo molto modesto, perché se non ricordo male le cifre si parlava di 60-65 lire al metro quadro di superficie agricola. E in più, con queste densità alte, si dava a casa ad un sacco di gente. Solo che si dava a casa ad un sacco di gente in condizioni che non erano più considerate delle condizioni, non dico ottimali, ma nemmeno decenti. Tutto questo è aggravato dal fatto che nessuno ha pensato di distribuire all'interno di questi insediamenti ceti diversi. Un po' perché c'era la pressione dei ceti meno abbienti, un po' perché i ceti, diciamo, più abbienti non andavano lì in questi insediamenti, che non avevano un minimo di caratterizzazione, non c'era la possibilità di individuare anche delle parti che potessero considerarsi più accettabili rispetto alle altre. Quando noi lo prendemmo in considerazione per vedere di migliorarlo, questa zona della città, più che questo quartiere, questa zona della città, si pensò come prima cosa ad allargare le maglie, allargare le maglie come si stava facendo con il PEP nelle altre parti della città. Perché anche nelle altre parti della città ci sono degli edifici alti, mai così, mai così, se sono così sono delle torri e quindi isolate, non ci sono mai delle pareti, non ci sono mai delle cortine come queste. Ma anche quando ci sono degli edifici di una certa consistenza, le maglie si allargono, le maglie si allargono, in modo che gli spazi verdi all'interno rimangano degli spazi molto piacevoli. e qui la prima cosa che si fece è che si pensò di fare questo braccio che dava il respiro a quest'area tutta esposta a sud, sulla quale si poteva fare questo grande parco, e poi gli si diede questi punti di riferimento come, come dire... Le torri. Sì, queste torri, queste torri come punti di riferimento degli spazi, insomma, del verde che c'era qui intorno, insomma, degli elementi di identità che dovevano servire appunto per dare una caratteristica diversa al pilastro. Ecco, e quindi questo è stato il criterio con il quale si è affrontata la progettazione del pilastro, che come le dico portò avanti l'amico Morelli. Poi, siccome questo non bastava, anche se qui c'è un mix... All'interno del virgolone, del cosiddetto... All'interno del virgolone, un mix di insediati diverso da quello che c'è qua, si cercò di aggiungere delle tipologie qui, diverse dal virgolone, sempre per creare una varietà che fosse appetibile. Credo siano state poi gestite come edilizia convenzionata. Qui poi ci doveva essere un insediamento artigianale che non è mai sorto, non so i motivi, non so perché. E quello per aumentare ancora di più la varietà all'interno in modo da farlo diventare un quartiere normale, tra virgolette, insomma, un quartiere nel quale ci fosse un po' di tutto, come in tutti gli anni, non così specializzato. E questo è un po' il modo col quale allora fu affrentata la questione dal punto di vista urbanistico. Successivamente si pone un nuovo problema, che è quello del collegamento del pilastro, cioè di questa parte della città, con le altre parti della città. Direi dell'integrazione, anche se qui parlare di integrazione diventa difficile, date le distanze fisiche. Se prendiamo il pilastro con il virgolone realizzato, è un nucleo completamente separato da tutto il resto. È separato da questa zona della città, questa è via larga, questa è via larga, non dico la zona di via larga, perché nella zona di via larga non c'era nulla, era vuoto ancora questo, e con destinazioni urbanistiche diverse. Dall'altra parte, sull'asse naturale di San Donato, stessa cosa, c'è una soluzione di continuità molto ampia qui tra l'ultimo costruito qua e il primo costruito qua, insomma, no? E quindi si pone il problema di vedere, di collegare questa entità con queste due parti della città, per dargli una continuità, non come questa evidentemente, ma una continuità che dia la possibilità nel tempo di costruire un collegamento che diventi organico. Questa è la zona industriale delle Roveri che fu realizzata dopo il piano dell'85 e doveva essere la zona dove si concentrava la mano d'opera che avrebbe abitato al pilastro. Poi invece le cose non hanno funzionato mai così. La gente che lavorava qui alla zona delle Roveri veniva da Casalecchio, veniva da tutte le parti del mondo, ma non da qui. Allora, questo è il vecchio pilastro che abbiamo visto prima in quella fotografia presa dall'alto, a Broduccello, che avevate voi. Queste sono quelle tipologie ultime che sono state fatte di edilizia a Giavolata. Questo è Meraville che è stato aggiunto dopo e che ovviamente porta ulteriore vita in questa zona e arricchisce diciamo così la componente sociale di questa zona. Qui abbiamo il virgolone, il parco, la spina che fa parte di questo insegnamento e poi il problema qual era? Il problema era quello di collegare il pilastro e con la zona di San Donnino, cioè questa qui, e con la zona di San Vitale, qua. per quanto riguarda questa zona di Via Larga, l'insediamento lo si è disegnato in modo che avesse anche questa funzione di collegamento e quindi c'è un collegamento forte qui e poi c'è appunto questo percorso pedonale che sale fin qui e arriva poi fin qua dove ci sono la prima zona commerciale di Via Larga. Da qui a qui c'è questo percorso che rimane come soluzione di continuità che rimane scoperto ma io qui sono al pilastro e qua sono già in una zona presidiata diciamo se vogliamo usare questo termine quindi questa è l'operazione che è stata fatta sul versante est. Sul versante ovest stessa operazione stesso obiettivo collegare il virgolone arriva in questo punto qui adesso c'è un distributore di carburante ma a questo punto si trova già un insediamento che è stato concepito proprio per essere l'accompagnatore di un percorso che c'è qui dentro quando è arrivato qui l'importante era che avrebbe scavalcato questo ramo qui si prendeva questo verde qui scavalcava questo punto qui una zona almeno di questa dimensione bene si prende questa larghezza qui si fa un ponte largo così si sarebbe verificato una continuità san donino verde insediamento eccetera eccetera ecco questo in sostanza è il il tema che le volevo far vedere il piano precedente era il piano del 55 58 55 l'adozione 58 l'approvazione e le criticità di questo piano erano soprattutto date da una carenza di dotazioni pubbliche che apparivano nella loro realtà man mano che emergevano le situazioni dei paesi civili dell'Europa perché noi con la guerra eravamo rimasti chiusi non sapevamo cosa succedeva altrove se non nell'architettura dal punto di vista dell'urbanistica cominciamo a scoprire che cos'era il piano di Amsterdam come pianificavano gli svedesi come pianificavano gli inglesi e cominciamo a guardarci intorno guardarci intorno in Italia prima in Europa poi per vedere quali erano i modelli che più era opportuno valorizzare in uno di questi giri andammo a Stoccolma e nei dintorni di Stoccolma vediamo uno di questi edifici curvi che poi Morelli utilizzò come modello per fare l'edificio del del pilastro quello curvo il Virgolone come dire la passione che ci prendeva nel potere misurarci con i problemi con cui si erano misurati gli altri no